Uno scambio di idee, opinioni ed esperienze sull'importanza di essere comunità amica dell'Alzheimer e valutare i presupposti utili per permettere alla città di Tricase di raggiungere questo importante riconoscimento. Per questo motivo nella città salentina si è svolto l'evento organizzato dal Centro per le Malattie Neurodegenerative dell'Università degli Studi di Bari Aldomoro, operante presso l'azienda ospedaliera Cardinale Panico di Tricase, con il patrocinio del Comune. Non è solamente una malattia biologica, ma è una malattia che per la sua struttura, le sue ricadute, ha molto a che fare col sociale, perché le ricadute più importanti sono sulla famiglia e sulla maniera in cui la famiglia è costretta a cambiare vita perché ha una persona con demenza. Quindi dal problema della famiglia diventa un problema della comunità. E quindi noi abbiamo invitato questa sera a incontrarsi tutte le persone più significative della comunità della città di Tricase, in maniera da iniziare un percorso insieme che partendo da una maggiore consapevolezza di questa tematica, porti a una maggiore consapevolezza nella gestione di comunità di questa difficile tematica. Una delle prime città amica delle persone con demenza e dalla quale può prendere esempio Tricase e Giovinazzo, che da anni ha avviato processi di partecipazione dell'intera comunità attraverso iniziative che stanno aiutando le persone affette da demenza e coloro che li sono accanto a sentirsi sempre più capiti, rispettati e meno soli. È stata un'esperienza bellissima. All'inizio si rappresentava un po' come una sfida. Siamo partiti dalla formazione, poi alcuni interventi urbanistici, fino ad arrivare appunto all'Alzheimer Fest e alla scuola di fragilità per le famiglie. Insomma, un bellissimo percorso.